Sono diverse le azioni previste dalla Regione e messe nero su bianco sul decreto firmato dai vertici del Dipartimento Ambiente da attivare nell'immediato in vista della stagione estiva 2024. Un budget di oltre 2 milioni di euro per avviare una serie di interventi su spiagge, litorale e mare. Due le misure di intervento, da una parte le spiagge e dall'altro il mare. In totale sono investiti 2 milioni di euro e tra le principali voci di spesa vi è l'avviso pubblico destinato ai comuni per il finanziamento delle spese, per la pulizia delle spiagge libere, per l'acquisto di passerelle al fine di rendere accessibili gli arenili. Una seconda linea di interventi è dedicata alla balneazione e alle attività di pulizia del mare, rimozione dei rifiuti galleggianti nelle aree critiche del litorale calabrese e al monitoraggio delle acque di balneazione sul fronte dell'inquinamento. Nelle scorse settimane invece sono iniziati i controlli sui depuratori a partire dal litorale tirrenico per definire gli interventi più urgenti da effettuare, a partire dal litorale tirrenico per definire gli interventi più urgenti da effettuare.